In questo girone non esistono partite semplici, lo abbiamo visto nelle prime quattro e lo sappiamo anche per quanto riguarda la Fidelisandria che è una squadra costruita per fare un campionato importante, noi invece dobbiamo ragionare sempre partita per partita, pensare a questa, riscattare nel modo giusto quindi senza farci prendere da nessun tipo di ansia o di nessun tipo di problema, abbiamo dimostrato in quasi tutte le partite di essere lucidi, di essere determinati e sappiamo che questo non è avvenuto nel secondo tempo di Fasano. E quindi faremo tesoro di quello che è successo per essere concentrati e attenti su tutti i cento minuti della partita. Anche quando abbiamo vinto noi sapevamo comunque di dover crescere perché è una squadra completamente nuova, siamo partiti anche un po' in ritardo, però noi non abbiamo mai trovato nessun tipo di alibi, quindi così come quando abbiamo vinto una partita ma abbiamo lavorato tanto per migliorare, lo abbiamo fatto anche questa settimana, tutti disponibili. Diciamo che è un gruppo che si allena sempre per bene, che mi mette sempre in difficoltà e spesso l'abbiamo dimostrato anche nelle precedenti quattro partite che qualcosa l'abbiamo spesso variata nel sistema di gioco e nelle caratteristiche dei ragazzi perché io devo soltanto mettere i ragazzi nelle condizioni di fare bene.